Ciao a tutti, sono Daniele Cappuccini per Molix. Guardate un po' qua. Quello che ho in mano è il Rolling Min, un artificiale piccolo ma ben palettato, in grado di notare agilmente anche tra forchi correnti e onde alte. È disponibile nella misura da 85 e 60 mm. Una delle sue peculiarità è anche l'elevato peso in rapporto alle dimensioni, caratteristica che gli conferisce un'ottima lanciabilità e un perfetto assetto in ogni condizione. Essendo un Minno molto polivalente può essere recuperato in mille modi. Io vi consiglio di sfruttare il suo forte Rollio utilizzandolo con recuperi sostenuti intervallati da brevissimi stop and go, oppure sbacchettandolo con brevi e secche cercate. Il Rolling Min esce montato con ancorette ma può essere utilizzato anche con ami singoli. Una soluzione che personalmente utilizzo quando cerco spigole o tra le mangianze. Gli OH2900 della OMTD sono ami ben affilati e resistenti anche nelle piccole misure che si adattano perfettamente al Rolling Min, mantenendolo ben bilanciato. Nello specifico gli ami della misura 2 possono essere montati sul 60, mentre la misura 1 si adatta bene all'85. Provatelo, mi piacerà. Ciao!